Passaggio del testimone ai vertici del sindacato CISL, Franco Pescara di Popoli e il nuovo responsabile della CISL della provincia di Pescara è stato nominato all'unanimità dal Consiglio Generale della CISL Abruzzo Molise. Pescara guiderà la CISL territoriale finora presieduta da Umberto Coccia che lascia l'incarico per limiti di età. Il nuovo responsabile è in CISL dal 1989 come delegato della FAIS CISL all'interno della Crodo Poi Campari e oggi anche come segretario generale della federazione agroalimentare della CISL Abruzzo Molise. Abbiamo diverse crisi, l'Ariello, l'Abrioni, abbiamo anche delle eccellenze però che non dimentichiamo abbiamo la Gran Guizza Popoli, la Rolli che si è appena inserita dall'anno, più altre situazioni dove le cose vanno bene abbiamo la cantina Zaccagnini però queste situazioni sono da controllare noi abbiamo bisogno veramente di una partecipazione anche politica attiva della regione perché con le politiche che si stanno attuando nella nostra regione particolarmente nella provincia di Pescara i risultati purtroppo non sono quelli attesi. Noi ci aspettiamo una condivisione sia con la regione sia con le aziende affinché si rilanci questo settore. Abbiamo l'opportunità di questo PNNR che deve essere sicuramente sfruttato, ci auguriamo che le sinergie messe assieme riusciranno a dare delle risposte ai lavoratori e alle lavoratrici. Purtroppo due problemi molto molto seri, poi non dimentichiamo che già PNN è per essere raggiunta un problema, se chiude quell'azienda o diminuisce la forza lavoro ci saranno anche problemi nel territorio di risorse che vengono distribuite nel territorio perché se non c'è lo stipendio uno non ha la spesa ha qualche problema a farlo, quindi si impoverisce il territorio ed è un problema ulteriore a quello della chiusura o ridimensionamento delle attività produttive. Poi su Pescara noi abbiamo un'altra cosa che non possiamo non perdere, il famoso progetto della grande Pescara. Pescara è la città tra virgolette più importante d'Abruzzo, deve essere rilanciata sotto tutti i punti di vista sulla viabilità, la Roma-Pescara, dobbiamo fare una serie di iniziative che non possiamo più stare fermi a guardare le inerzie che ci sono.